Go to my dad's TV That's what I figured Giaia Il signore è morta Non c'è niente And you had to protect yourself That's right Oh, ok Hey there, this is Glenn And I'm kind of in a jam here Little girl, if you're there Can you put your daddy on the phone Or on the talkie or whatever This is Lee, what's up? So I'm down at that motor inn And well, I'm stuck Stuck? Yeah, I saw a chance to get some supplies for the group And a bunch of the Roman ones got to jump on me I'm hiding over here, but they won't leave What's up? Glenn's trapped down at the motor inn Hey, Glenn We're gonna talk it over and send a group to come get you, alright? Awesome I'll sit tight till then Sounds good I'm gonna hold on to this until we get Glenn back, okay? I'll take good care of it What do you think? I think Doug's not great around zombies And you got your family here I'll take Carly and her dead eye down to the motor inn Get Glenn and get back here as fast as I can If that's what you want to do Somebody's got to Yeah, I'm in Good, doesn't sound too bad there right now Let me know as soon as you want to head out I could use a jog Yeah, I've understood But... No... Want to go have a look around outside? Let's have a look around Okay Let me know as soon as you want to head out Ah... They just... Eat As far as I can tell, it's all they care about And if one gets you They eat you And whatever's left comes back as one of them Mm-hmm How the fuck? I think it might be more than a couple days before all this gets sorted out Yeah... I think so too We better keep it down out of here That guy over there has the keys How can you be sure? I found this in the office That boy in the photo worked here The keys being on him Is as good a bed as we can make Yeah, I agree Just need to figure out how to get out there and get them Ah, quindi il fratello No, just a few seconds Maybe there's a way to distract them And buy you some time It's universal I could program it to work with those TVs across the street Just hope the power is still on To distract them In sum, yes, yes I memorized all the codes when I was in AV Let's try Well, fucking done Your nonsense might save a life Who's to say it already hasn't I've got a few of them to take notice But not enough Infatti Let's head back inside Ok Come facciamo adesso? Devo trovare la soluzione proprio Distrarli per bene, quegli zombie Ah, non siamo usciti proprio? Non siamo usciti proprio Sì 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 boys S**lo S word of Tout Sabeth Sì 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 אמ Sì 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 nuestra che voglio vi chi è? è una ragazza, abbiamo parlato e lei è affrontata ero cercando di entrare e lei ha cominciato a chiedere e dicendo che ero scoperto ero cercato a convincere che non ero e è così quando tutti questi ragazzi fuori dalla foresta un paese mi ha quasi mi ha fatto e ho finito in la macchina acquistata lucky sei, ora andiamo non possiamo solo lasciare vero certo possiamo voi stessi suicidali per una ragazza io la salvare con o senza te pensi se fosse te bene bene andiamo salvare il dottore di Glenn simpatico ok, questo è il progetto non sappiamo quanto è difficile per farla fuori da quella sala sì, è portato quindi abbiamo bisogno di uccidire tutti qui tranquillo non si tratta queste cose ora andiamo a vedere oh no, la cosa è una cosa è una cosa quindi abbiamo quella da qui da qui da qui da qui da qui da qui probabilmente possiamo fare da qui da qui o da qui se ci si chiede per la qui Prendiamo il vostro cuscino allora Ci potrei servire Oh cazzo qua si mi faccio sgamare Non devo sapartere Andiamo verso quel pick up Oh merda c'è una lì un altro zombie Fatti Fuori la tua guna Ma il ruolo Solo segui la mia legge Stai proprio dietro a me Ha funzionato Meno male C'è una scella Apriamo di qua Una candela La macchina Spingiamola Vediamo Cazzo Facciamo quello? Lasciami vedere il spark plug E' ovviamente Allora dentro Queste cose questa cacciavite. Andiamo allora indietro. Ok. Bene. Primo zombie morto. Oh cazzo. Bene. Ok. Attenzione. Ok. 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 To war. That should help. Ok. 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 Eccolo, per favore! Wow, facciolo facile, vogliamo solo aiutare. Non puoi. Nooo, ma che ca... Rilassati ora. Tu hai bisogno di pensare questo. Siamo trovare un dottore. Ci sarà bene. No, no, no! No, no, no! Siamo fuori da qui. Abbiamo fatto tutto questo macello per la fine che questa si doveva ammazzare! Che grandissima puttanata! Porca puttana, che palle! Tutto bene? Sì, abbiamo avuto alcuni chiamati, ma Glenn è bene. E... beh, sì... Siamo bene. Abbiamo alcuni cani di gas per il tuo prendimento nel tronco del mio carro. Buono di ascoltarla. E le cose qui qui? Quiet. Il nostro amico è ancora in e fuori qui. Non si vede più stress. Il prossimo ordine di negozio è prendere le pillole da la farmacia. Ok, ragazzi penso che per il momento mi fermo qui e... Allora ragazzi ci vediamo al prossimo video. See you gamers!